In realtà non è corretto affermare che le reti di Facebook o Google siano state violate, questo per ora non è successo, probabilmente difficilmente succederà almeno in senso macroscopico in futuro. Questo perché grandi giganti della tecnologia come Facebook, Google, Amazon, le grandi aziende a cui rutinariamente affidiamo i nostri dati hanno la possibilità proprio in quanto enormi di avere risorse dedicate alla sicurezza informatica che altre aziende più piccole non possono avere. Quello che è successo, e in particolare è successo nel caso di Cambridge Analytica collegato con le elezioni americane, ma è successo in altre situazioni, sono stati dei cosiddetti data leak, cioè delle perdite di dati collegate all'utilizzo dei sistemi di Facebook, Google e altre aziende da parte dei cosiddette terze parti, cioè da parte dei terzi che hanno avuto accesso in modo lecito ai dati per fare certe attività e poi hanno abusato questi dati per fare altre attività. Quindi più che di un problema di sicurezza informatica in senso stretto, cioè della violazione di sistemi per sottrarre dei dati abusivamente, si tratta di un problema di privacy, ovvero sia di come i dati vengono utilizzati, per quali finalità e dei contratti che molto spesso regolano l'accessione di questi dati. Quindi in un certo senso negli eventi che ci sono stati, in particolare che hanno coinvolto Facebook, Facebook è stata da un lato truffata a sua volta da terzi, dall'altro ovviamente non ha avuto cura dei dati che noi le abbiamo affidato. La domanda diventa, è sensato e ragionevole per noi come singoli cittadini, per la società nel suo complesso conferire così tanti dati a così poche aziende? Questa è una domanda che ha senso porsi. Da un lato ovviamente, come ci dicevamo, aziende molto grandi possono dedicare molte risorse alla protezione dei dati personali. Dall'altro aziende così grandi, con quasi grande concentrazione di dati, diventano bersagli molto grandi. Bersagli molto grandi attirano aggressori molto preparati e molto motivati.